Ciao a tutti sono Chanel sono una chihuahua di due anni e mezzo e sono una vera principessa sono la bimba filosa di Paola Caruso Chanel è entrata nella mia vita a maggio del 2018 lei aveva due mesi e poi a giugno sono rimasta in mio figlio quindi praticamente sono cresciuti insieme è convinta di essere la mia prima figlia che Michele è tipo arrivato dopo ho deciso di chiamarla Chanel perché secondo me le stava perfetto perché lei ha quest'aria un po snob un po così fashion che oltre al nome doveva avere anche un guardarobba adeguato eccolo il guardarobba di Chanel corse zainetto copertine con la pasta rossa Michele e Chanel ma proprio giocano si cercano sono come Tom e Jerry si fanno i dispetti si inseguono prendi Chanel corri corri prendila prendila sono ormai simbiotici si cercano poi dormono abbracciati cioè lui si addormenta e lei gli dorme sulla testa e lei adora giocare con queste palline è la sua passione e poi adora a prendere il sole io penso che se i bimbi crescono con gli animali imparano a capire proprio l'amore no l'amore quello vero disinteressato così così mammi grettini vai ciao ciao ciao